Ciao a tutti i tifosi del Catanzaro, grazie per averci inviato le vostre domande, ora risponderò alle più interessanti. Ciao Luigi, ti ringrazio per la domanda, diciamo nessuno in particolare, mi trovo bene con tutti e cerco di adattarmi alle caratteristiche dei miei compagni di squadra, così come fanno loro con me, riusciamo ad amalgamarci al meglio, quindi non ho alcuna preferenza al riguardo. Ciao Alberto, il mio gol più bello è Parma-San Benedettese, nella pool scudetto una punizione da metà campo. Ciao Antonello, il giocatore con cui vorrei giocare, diciamo che si è ritirato, il mio idolo era Alex Del Piero, quindi mi sarebbe piaciuto giocare con lui, però purtroppo non ci siamo incrociati. Ciao Luca, le mie passioni fuori dal campo, i miei figli, mia moglie e i miei due cani. Ciao Cristian, questa è una bella domanda perché è il mio sogno da quando ero bambino, da quando facevo il racchettapalle al ceravolo, era il sogno di tutti quelli che giocavano con me, che erano comunque tutti i cadanzaro, che era quello di indossare la maglia del cadanzaro e anche la fascia comunque un grande orgoglio, un grande stimolo. Ciao Marco, una bellissima sensazione, era una cosa che volevo da tempo, ci siamo inseguiti, però non siamo mai riusciti in questi anni a ritrovarci, fortunatamente grazie al presidente questo matrimonio è andato a buon fine e sono felicissimo di questo. Ciao Francesco, questo cadanzaro potrà arrivare spero lontanissimo, puntiamo sicuramente alle parti alte della classifica, il nostro sogno è quello di andare in B, però comunque ci vuole tanta fortuna, tanto sacrificio e soprattutto dobbiamo essere bravi a non sottovalutare mai nessuna partita. Ciao Davide, il mio più grande sogno è quello che ho comunque da parecchi anni, da quando sono entrato a fare parte di questa squadra nel 2000, che è quello di vincere con la squadra della mia città. Spero prima di appendere le scarpe al chiodo di poterci riuscire. Grazie a tutti i tifosi del cadanzaro per aver partecipato a questa bellissima iniziativa, mi raccomando continuate a seguirci sui social perché ci saranno altre iniziative interessanti. Grazie a tutti i tifosi del cadanzaro per aver partecipato a questa squadra di poterci riuscire. Grazie a tutti i tifosi del cadanzaro per aver partecipato a questa squadra di poterci riuscire. Grazie a tutti i tifosi del cadanzaro per aver partecipato a questa squadra di poterci riuscire.